Ci hanno proposto un nuovo spettacolo. Bello! Interessante, molto interessante. In collaborazione con la circoscrizione 5. Quella di Dolly! 5! La mia! Si dovrebbe partire da Resistenza, dalla guerra, Torino sotto i bombardamenti, e poi l'8 settembre, quindi... La Resistenza, la lotta partigiana, in questo quartiere, quartiere operaio, dove c'erano molte fabbriche. Le fonti, come sempre, saranno diverse. Magari sentiremo sicuramente dei testimoni, useremo degli archivi. Assolutamente andremo nei luoghi. Mi piace, bella idea. Bene, partiamo? Sì, partiamo. Vamos! Sì, partiamo. Sì, 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 sì.